Notizie dall'estero, siamo in Polonia, 23 arresti per traffico di organi. Vendevano su internet i propri organi, Reni in particolare. Per questo motivo 23 persone in Polonia sono finite in manette. A darne notizie il portavoce della polizia, Marius Sokolowski. Grazie a una porrezione condotta a livello nazionale sono stati controllati 250 annunci per la vendita di organi, soprattutto Reni, e poi sono state successivamente interrogate 95 persone, 23 delle quali sono state incriminate. Per un tale reato il codice penale prevede fino a un anno di reclusione, oltre ai Reni. Le offerte riguardavano anche fegato e midollo. E siamo all'economia con i prezzi dei carburanti. Ultimi giorni di rialzo prima degli sconti del weekend. Brusca impennata di prezzi dei carburanti in modalità servito, mentre si attende il fine settimana di sconti sul self-service. Tutte le compagnie, riferisce Quotidiano Energia, hanno decise di seguire la mossa di ieri di Eni e Shell. Quindi Kuwait e Total Air salgono di un centesimo e mezzo al litro su benzina e diesel. Ippi e Tamoil addirittura di due centesimi. Infine, esso aumenta di solo mezzo centesimo. Prezzi ovunque in aumento per le petrolifere. Anche per l'enologo. I prezzi medi nazionali serviti oggi sono di 1,812 euro al litro per la benzina, 1,702 per il diesel e 0,781 per il GPL. Punte massime in salita per la verde, che giunge a 1,897 euro al litro e per il diesel a 1,738 euro. In leggero calo invece il GPL è a 0,812 centesimi. Questo quanto risulta in un campione di stazioni di servizio che rappresenta la situazione nazionale per il check-up Prezzi QA. Siamo alla cronaca. Brescia in ostaggio alla figlia per costringerla a prostituirsi. Per costringerla a prostituirsi affidavano ad un gruppo di albanesi la sua bambina di soli tre mesi. L'incubo per la ragazza romena di 23 anni è finito quando i carabinieri di Brescia hanno fatto irruzione in un appartamento di Coccaglio dove hanno trovato la ragazza. Sul corpo segni di bruciature, di sigarette e lividi. In carcere con l'accusa di sequestro di persona, riduzione in stato di schiavitù, induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, oltre alla violenza sessuale, si trovano un albanese di 33 anni e la sua convivente, romena, di soli 18. A segnalare il fatto ai militari è stato un cliente della ragazza. E siamo giunti alla pagina dei motori. La casa di Stoccarda presenta la Mercedes CLS. Per la prima volta c'è l'esordio per una Sportwagon. La storica firma tedesca delle auto, contraddistinta dalla stella a tre punte, lancia una carazzeria a cinque porte con un profilo slanciato che chiude verso un grande portellone. La variante Shot in Brake interpreta in forma inedita l'idea di una coupé, segno che Mercedes sta ancora continuando la ricerca di forme nuove dell'automobile. Se la CLS è stata infatti la prima coupé a quattro porte ad apparire sul mercato, la nuovissima CLS Shot in Brake è la prima coupé a cinque porte. E chiudiamo il nostro notiziario con la pagina sportiva. Domenica ci sarà il Gran Premio di Gran Bretagna a Silvestron. La pioggia, come al solito, ha condizionato il primo turno di prove libere. Il miglior tempo è andato al francese della Lotus Grosjean in un minuto 56 secondi e 552 millesimi e ha preceduto Ricciardo della Toro Rosso, Hamilton della McLaren. Quarto crono per la Sauber del messicano Perez, seguito dalla Ferrari del brasiliano Massa in uno 58-119. Lo spagnolo Alonso si è limitato a completare i quattro giri con la sua Ferrari.